Salve, buonasera Calamice, la settimana naziana, abbiamo cominciato ieri sera con le cose caratteristiche tradizionali, stasera cultura e informazioni. Abbiamo avuto modo di far conoscere i poeti di origine naziali che qui vivono come la Patriarca, come altri, Fiore Paniccia e così via, e la Bertoni. È stato bello vedere la nostra gente, sentirli dire, leggere delle poesie anche in dialetto, in italiano e in inglese. Conoscere quei poeti è importante, queste sono serate magnifiche, veramente eccezionali. Poi abbiamo avuto degli esperti di medicina, abbiamo avuto degli esperti, un chiroprato del mondo legale, come l'Avvocato Rocca, l'Avvocato Consiglio, che hanno dato dei consigli un po' come muoversi nel mondo della legalità, nel mondo della medicina, della prevenzione e così via. Quindi è stata una serata veramente eccezionale. La gente a risposta è stata presente, si è divertita nell'ascoltare, ha fatto molte domande, ma la cosa principale è quello che vogliamo ripetere nel tempo e questo avvicinamento alla nostra cultura, delle nostre tradizioni, ma anche la nostra poesia, la nostra scrittura e così via, con la nostra gente. È veramente un appuntamento importante che dobbiamo ripetere e fare annualmente perché pensiamo che nel futuro dobbiamo proteggere questa nostra cultura che sta piano piano andando dissipandosi.